Il movimento Laudato Si, prima di tutto, è un movimento come lo era il GCCM e la parola movimento è molto importante per trasmettere l'idea di cercare di creare qualcosa di stabile, di duraturo. Stiamo cercando di muoverci, di arrivare da qualche parte, stiamo cercando di migliorare e a dire la verità di sopravvivere come famiglia umana e casa planetaria. Quindi il movimento è molto importante. Ma il movimento Laudato Si e il suo predecessore non è iniziato ieri, è nato tempo fa e rappresenta non solo la Laudato Si, ma l'intero movimento di Papa Francesco. Ecco, di nuovo il movimento, l'insegnamento di Papa Francesco, Evangelii Gaudium Laudato Si, Crida Amazzone, Fratelli Tutti. E io veramente spero e prego affinché tutti i membri, i partecipanti del movimento Laudato Si, si arricchiscano sempre di più con la vasta gamma di insegnamenti di Papa Francesco, radicati nel Vaticano II. E poi sono anche veramente felice, ancora di più, che questo cambiamento abbia un significato molto profondo. Il GCCM aveva una sorta di denominazione sociale, una parola composta che istituzionalmente indicava cosa si stava cercando di fare, ma è maturata con il tempo. La maturazione è stata profonda e quindi questa maturazione è il cambio del suo nome adesso. Il nome non è un nome aziendale, è una preghiera. E per il movimento Laudato Si, il nome legato alla preghiera è un nome che dice la verità, che noi non saremo in grado di implementare l'enciclica, non potremo mai prenderci cura della nostra casa comune se non lo facciamo insieme, così come ce lo ha insegnato Fratelli Tutti e come persone, non solo persone di ambiente, di natura, ma persone di spirito. Quindi quando d'ora in poi nomineremo il movimento, ogni qualvolta lo nomineremo, reciteremo una preghiera. Laudato Si, sia lodato il creatore. E speriamo che il creatore ci aiuti a essere umili, responsabili nella cura di ogni creatura. E questa grande preghiera è quella che vorrei condividere e offrire a tutti voi in questa occasione. Movimento Laudato Si, laudato Si. Grazie. Grazie. Grazie.